Fatalmente freddo a Foggia che anche l'acqua della Fontana del Sele nella centralissima piazza Cavour si congela. 3 gradi sotto zero all'alba nel capologo Dauno e una coltre bianca spessa 10 centimetri. Ancora più intense le nevicate in provincia, in particolare sulle zone più alte del Gargano. A Monte Sant'Angelo, 800 metri, la neve ha superato i 50 centimetri, con la colonina di mercurio crollata fino a meno 9. Stessa temperatura e stessi quantitativi di neve registrati sulle cime dei Monti Dauni, tra Monte Leone, Pagni e Faeto, dove a far festa sono i bambini. Tutto il tavoliere è imbiancato, come dimostrano queste suggestive immagini dal belvedere di Rignano Garganico. Nella vicina San Marco in Lamis si rimuovono gli accumuli di neve con le ruspe. Incantevole lo scenario di Monte Sant'Angelo, con la basilica di San Michele ricoperta di neve ad accogliere i pochi visitatori che l'ultimo giorno dell'anno hanno deciso di sfidare il clima polare. Forti disagi per la circolazione stradale, ma per fortuna non si registrano gravi incidenti. I vigili del fuoco, il 118 e la polstrada, hanno soccorso decine di veicoli, soprattutto mezzi pesanti, finiti di traverso sulle carreggiate dopo essere slittati a causa del ghiaccio. Particolarmente difficile la circolazione lungo la statale 89 e la superstrada Foggia-Candela, a causa del ghiaccio formatosi sull'asfalto. Difficile soprattutto il transito sull'89 tra Foggia e Manfredonia, a cui si riferiscono queste immagini. I mezzi spargi sale dell'ANAS sono entrati in azione in ritardo, causando pesanti rallentamenti al traffico, così come in ritardo sono intervenuti i mezzi della provincia, provocando le proteste dei sindaci di comuni montani. Pochi fondi a disposizione, se giustificano gli enti, l'ondata di maltempo però era prevista e sarebbe bastato organizzarsi in anticipo per evitare i disagi.